Niente c'era, Dio volle, niente diviene qualche cosa, ne dubitavo, cercai su cosa l'universo posasse, nulla conservò l'equilibrio e servì da sostegno. Infine, con il peso dell'elogio e del biasimo, io pesai l'eterno, egli chiamò la mia anima, io morì, l'adorai, non seppi più nulla. Il conte di San Germán è un personaggio avvolto nella leggenda già dalle sue origini. Nasce nel 1712 ad Asti, forse figlio legittimo di Francesco Racocci II, principe di Transilvania, e della principessa violante Beatrice di Braviera, granduchessa di Toscana, della dinastia di Winterblush, o forse figlio di Maria Anna del platinato Neuburg, regina di Spagna e del conte di Melgar. Di sicuro si trova ad interagire con i personaggi più emblematici del suo tempo, Voltaire, Cagliostro, Madame de Pompadour, Giacomo Casanova. In società offre una cultura sconfinata, l'abilità del musicista, la capacità di esprimersi in molte lingue, sa dipingere splendidamente, ma soprattutto si dedica allo studio e alla pratica dell'alchimia. Di lui tutti conoscono la capacità di scomparire all'improvviso e ricomparire in più luoghi contemporaneamente, anche distanti centinaia di chilometri. Viaggia moltissimo e nel 1746 lo troviamo che abbandona Londra per scomparire 12 anni. Secondo alcuni, per intraprendere un viaggio di conoscenza che lo porterà fino in Tibet, per altri invece per nascondersi in Germania e scoprire il segreto della pietra filosofale. Fatto sta che il mistero si infittisce e dal suo ritorno nel 1758 si presenta come alchimista alla corte di Luigi XV, che lo omaggia del castello di Chambord. Compare, negli stessi anni, nei Paesi Bassi, in Inghilterra, in Russia, in Italia, in Prussia, con una facilità di spostamento che ha dell'incredibile. Molti raccontano anche il fatto che non invecchi e finché non scompari improvvisamente dai salotti reali d'Europa per non comparire più. Signore e signori, Ramona dell'Abbate. Buonasera, buonasera, bravo, bravo, bravissimo, giovane, giovane, bravo. Poi, secondo me, intanto grazie perché abbiamo un pubblico che è venuto proprio invitato questa sera, che è una serata un po' particolare. Avrete già capito dalle prime battute che stiamo parlando, stiamo parlando di un fatto particolare, di un'eccellenza, di qualche cosa di misterioso, di qualche cosa di nascosto. E mi ha incuriosito molto anche la storia romanzata, ma pare autentica, in fondo le leggende nascono così, adesso la dell'Abbate cade, su questo conte di Saint Germain, soprattutto il fatto che non invecchiasse. Ma la cosa che mi piace, perché abbiamo già chiacchierato abbastanza, la cosa che mi piace molto questa sera è spiegarvi anche che cosa succederà durante la nostra trasmissione. Allora, intanto abbiamo invitato degli amici, è un po' una cosa fatta in intimità, con le persone che secondo noi, secondo il nostro parere, sono delle persone eccellenti. Ognuno nel suo campo, ovviamente, ma hanno dato qualcosa di più. Allora, iniziamo, iniziamo subito perché sono tanti, non è mica stato facile, perché ce n'erano talmente tanti. Poi volevamo anche delle persone che magari hanno ancora tanto da dire, perché sono giovani, sono brave, ma la cosa che li unisce, il fil rouge che li unisce, è sicuramente il talento. E quando parlo di talento, vi voglio presentare subito un grande amico, veramente un artista bravissimo, Stefano Veronesi. Ciao Stefano, guarda che meraviglia, ciao, come stai? È come il conte di Saint Germain sei, eh? Allora Stefano, no, che volevo far vedere le mie calze. Ecco qua, anche queste sono un'eccellenza. Sei un po' lontano, ma mi hanno detto che così riusciamo a farti delle belle inquadrature anche per tutte le cose che ci hai portato a vedere. Allora Stefano, tu sei un appassionato di storia antica, un appassionato di storia antica, di psicologia, di letteratura. Ce n'è talmente tante che, insomma, voglio dire, non sto lì a raccontarti le tute.